Si può dire che tutti conoscano la figura di Don Bosco, fondatore dei Salesiani. Meno nota è l'opera di Suor Maria Domenica Mazzarello, sua contemporanea confondatrice assieme a lui della congregazione delle figlie di Maria, ausiliatrice. Entrambi diedero vita a un progetto educativo destinato a durare nel tempo e a formare generazioni di giovani, ragazzi e ragazze. Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, in collaborazione con le figlie di Maria, ausiliatrice e l'Istituto San Giovanni Bosco di Aosta, ha voluto renderle omaggio con una serata a lei dedicata nel Salone delle Manifestazioni di Palazzo Regionale e intervenuta all'incontro la consigliera segretario Emili Rini. La serata di oggi si colloca in un progetto più ampio di promozione del messaggio salesiano. Infatti già l'anno scorso abbiamo promosso tre serate proprio dedicate alla figura di San Giovanni Bosco e quest'anno abbiamo valorizzato in occasione del 140esimo anno della congregazione la figura di Suor Maria Domenica Mazzarello. Io credo che la comunità salesiana sia un elemento molto importante, vivo e fondamentale per la comunità valdostana. Infatti basti pensare alle istituzioni scolastiche che operano penso a quella di Châtillon, ma anche quella che si trova nel comune di Aosta che è proprio portata avanti dalla congregazione delle figlie di Maria, ausiliatrice. Quindi io credo che sia giusto far conoscere ancora più. Se il messaggio di Don Bosco è un messaggio che è più conosciuto, invece la figura, l'immagine di Suor Mazzarello è un'immagine molto importante, altrettanto importante, ma forse meno conosciuta. Madre Mazzarello è nata a Mornese, in provincia di Alessandria, nel 1837, da una famiglia di contadini. Si è dedicata dapprima alle fanciulle del suo paese, aprendo un laboratorio di cucito, un oratorio festivo e una casa famiglia per orfane, per poi fondare una nuova grande famiglia religiosa interamente dedicata all'educazione delle giovani. Nel corso della serata il suo messaggio e la sua parabola esistenziale sono stati evocati da Suor Ivana Milesi, responsabile della pastorale giovanile della congregazione in Valle d'Aosta, e da Suor Enrica Rosanna, sottosegretario della congregazione per gli istituti di vita consacrata della Santa Sede. L'esempio di Suor Mazzarello, una donna dell'Ottocento, capace di precorrere i tempi, è del tutto attuale, sostiene Suor Enrica Rosanna. Il suo messaggio è stato raccolto e portato avanti. Io penso che il messaggio di fondo che io vorrei dare alle giovani generazioni, in particolare alle giovani generazioni di donne, è quello di valorizzare il loro genio femminile. Il genio femminile ha un cuore, prendersi cura. Se noi pensiamo a una mamma che genera fisicamente un bambino, noi vediamo che lo accoglie nel suo seno, lo custodisce, lo dà alla vita, lo educa, lo prepara ad essere un uomo. Perciò questo è il messaggio, valorizzate il vostro genio femminile. E ci sono molti modi per valorizzarlo. Stasera io presento delle sante, delle grandi donne che hanno fatto bella l'umanità, e proprio valorizzando il proprio genio femminile. Per esempio parlo della mamma di Don Bosco, che ha valorizzato il proprio genio femminile, prendendosi cura degli orfani. Parlo di Teresa di Calcutta, che ha valorizzato il genio femminile, prendendosi cura dei miserabili. Die di Stein, che ha valorizzato il proprio genio femminile, la filosofa, prendendosi cura della verità, e morendo addirittura per la verità con la V maiuscola nel campo di concentramento di Auschwitz. E poi parlo di Mademazzarello, la donna umile, grande, che si è presa cura dell'educazione, dell'educazione delle ragazze, prima ancora di incontrare Don Bosco. E poi con il sostegno, l'aiuto, il consiglio, la santità di Don Bosco, ha fondato il nostro istituto delle figlie di Maria Auxiliatrice. L'attualità è questa, una donna che nel tempo della prima rivoluzione industriale, in un tempo in cui la società era ancora prevalentemente maschilista, ha saputo cogliere quello che era il suo genio, il genio come donna e come educatrice. La sua vita è stata raccontata in un film, Main, che ripercorre la sua infanzia, adolescenza, giovinezza e maturità, sottolineando l'entusiasmo e la determinazione con cui ha dedicato le proprie energie alla fede e all'incontro con il prossimo. Grazie all'interessamento del Consiglio regionale, la pellicola verrà proiettata da Osta al Teatro Giacosa, giovedì 7 giugno alle ore 20 e 30. È un modo, spiega Emilie Rini, per non dimenticare il messaggio di figure come quella di Suor Mazzarello. Credo che in un momento come quello che stiamo attraversando di crisi non solo economica, ma una crisi generale, sociale, di valori, credo che sia importante dare fiducia ai giovani e quale modo migliore se non tributare due figure come quelle di San Giovanni Bosco e Suor Mazzarello che hanno dedicato e fatto dei giovani la loro missione.